Il Martina vince a bitetto contro il Bitonto sfruttando al massimo un finale di prima frazione in cui la difesa di casa ha avuto più di un'incertezza. Mafe e Palermo titolari per Pizzulli in avanti con Ievolella a partire dalla destra e Figliola tra i pali. Dall'altro lato Lo Seto sceglie gli under De Michele e Marchitelli a supportare Tedesco in avanti. A Vio Blando complice anche il Gran Caldo. Meglio però il Martina nella prima frazione con Ievolella che salta un uomo e ci prova dal limite. Sfera sul fondo non di molto. Il tiro di Tuccitto sul fondo sempre dal limite. Poi arriva la reazione del Bitonto con il gran tiro provato da centrocampo di Tedesco. Palla che finisce di poco alta sulla porta difesa da Figliola. Ancora Perez ci prova invece da molto lontano. Sfera alta ma il Martina passa al 38esimo grazie all'azione capabile di Mancini a sinistra e il cross millimetrico per la testa di Virgilio abile a beffare anche l'intervento di Gianfreda e quello successivo di Tarogli. È festa per la squadra di Pizzulli che tuttavia prova a chiudere la contesa già nel primo tempo. Al 42esimo infatti lo scarico di Perez per Palermo in aria toccato da Gianfreda. L'attaccante cade a terre per il direttore di gara e calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Palermo sigla il risultato sullo 0-2 battendo Tarogli. Doccia ghiacciata per gli uomini di Roseto che provano a reagire ad inizio ripresa grazie al calcio di punizione dal limite di Acampora su cui è miracoloso l'intervento di Figliola. C'è l'ingresso in campo sia di Diame in porta che di Mariano in avanti e c'è subito più verve per lo spento attacco di casa. Proprio l'attaccante Bitontino si costruisce una bella opportunità con una sforbiciata nel cuore dell'aria che finisce alta e poi molto più pericoloso il suo sinistro dei 20 metri che Figliola tocca quel tanto che basta per mandarlo sul palo. Sempre Mariano di testa alto sul calcio d'angolo di Acampora il Martina controlla lo scadere e lo bianizze a salvare tutto sulla linea con il tocco a porta vuote di Albanese dopo l'intervento di testa fuori dall'area di rigore di Diame. C'è tempo in pieno recupero anche per il cartellino rosso per doppia munizione ai danni di Gianfreda partita decisamente sotto tono per il difensore del Bitonto ma c'è tempo anche per gli applausi per il Martina che vince e convince nella seconda uscita stagionale di campionato. Domenica prossima sarà la sfida a Casalinga in Valle d'Itria contro il sorprendente Rotonda punteggio pieno in questo inizio campionato per il Bitonto una reazione da cercare invece in trasferte in questo caso contro il Santa Maria Cilento.